Consegnati 58 attestati di partecipazione al progetto Alfa, avviamento, lavoro, formazione e alfabetizzazione, per introdurre nel mondo del lavoro categorie svantaggiate, in particolare migranti e rifugiati politici, presso la sede romana della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Presenta la cerimonia all'assessore alle attività produttive e al lavoro, Davide Bordoni, che ha tracciato le conclusioni del progetto, realizzato in sinergia con Roma Capitale e Provincia di Roma. I partecipanti provenienti dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dalla Somania, dal Sudan, ma anche dalla Cina e dal Kosovo, si sono cimentati in corsi su discipline come agricoltura e zootecnia, gestione del verde pubblico e privato e della ristorazione. Dopo una prima fase formativa di due mesi, i partecipanti sono stati inviati presso le ditte dei diversi settori per un triocinio pratico con l'obiettivo di affinare le capacità operative. Sono zia Gogbe Rumen, vengo da Costa d'Avorio e ho due anni che sto in Italia. Ho iniziato a fare un corso che si chiama Alfa, l'agriturismo, che diciamo impariamo tante cose lì. Ho fatto un tiroscino meraviglioso perché questa azienda era proprio fantastica per me, perché le gente lì hanno preso noi come un cuore, come mana e abbiamo imparato tante cose a raccoltare, a piantare e diciamo la cosa più spettacolosa era zappare, come dicevano, tra tutti i guanti. L'assessore alla formazione professionale Davide Bordoni ci parla degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Io credo proprio di sì perché già avere un circa 30% di occupati e altri che sono in fase di contrattualizzazione credo che sia particolarmente significativo. È quello che vogliamo ma anche quelli che poi magari non saranno coinvolti hanno comunque una professionalità che possono portare avanti in altri settori. E' sempre questo progetto Alfa, rinnovarlo anche per gli anni passati, oltre poi allargare tutti i corsi di formazione professionale che sono circa 70 che Roma Capitale fa su tutto il territorio nei suoi 10 centri. Sono le voci e gli sguardi dei partecipanti a dare il senso dell'importanza del progetto Alfa che ha messo categorie svantaggiate, migranti e rifugiati politici, nella condizione di imparare e di trovare un posto di lavoro. Mi chiamo Dumbia Uma, facevo l'agricoltura via Bocea, via Bocea si trova a Cornelia. Ho imparato come si fa per l'agricoltura di oliva, come si fa per preparazione di terreno, come fa l'assimilazione, anche l'elevamento, tutto. Tutto imparato tantissimo, quello che io non imparato prima, adesso io ho tanti esperanza, adesso come si fa per l'agricoltura, anche sono molto molto contento di questo progetto Alfa. Loro mi ha insegnato tanti cose che prima io non avevo conosciuto, ma con questo progetto sono davvero contentissimo.